vai piano all'inizio è non fare lo spazzaneve subito dall'inizio wow guarda che bello wow che bella neve allora giù gli sci aspettiamo di essere sulla rete ok sinistra è dai che vai bene luigina no no vai bene grazie 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 Sì. Sì Grazie a tutti. 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 Si è emozionato perché lo riprendevo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non mi ha mandato niente. Se tu butti via le mail che ti mandano e non guardi... Allora... 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 Allora...